herman s padre mattia capitolo 1 nell'ansa del fiume verde proprio al centro dell'antica città sulla collina il convento giaceva nella luce pomeridiana di una giornata di sole di fine estate separato dalla città dall'alto muro del giardino e dal convento delle monache grande silenzioso dal corso del fiume l'edificio largo e scuro riposava nella sua venerabilità appagata sulla riva sinuosa e dei suoi molti vetri schermati osservava altezzoso la degenerazione dell'epoca alle sue spalle sul declivio ombreggiato della collina si inerpicava la pia città con le chiese le cappelle le ville e i collegi cardinalizi fino all'alto duomo di rimpetto ma al di là del fiume del monastero femminile che sorgeva isolato il sole ancora chiaro illuminava all'erta costa dove i prati lucenti e i fruttetti erano interrotti qua e là dai terra pieni e dalle cave d'argilla color dell'oro brunito davanti a una finestra aperta del secondo piano era seduto e leggeva padre mattia un uomo nel fiore degli anni dalla barba bionda che nel convento e anche fuori era ritenuto una persona gentile benevola e rispettabile sotto la maschera del volto piacente e dello sguardo calmo s'agitava però l'ombra di una dissimulata tenebrosità e di disordine che i frati avvertendola ritenevano la tenue risonanza della sua profonda malinconia giovanile era stata proprio questa mestizia a portarlo 12 anni prima in quel tranquillo monastero ma da parecchio tempo sembrava fosse ormai tramontata sostituita da un'amabile tranquillità spirituale ma l'apparenza inganna padre mattia era l'unico che sapesse le cause recondite di quell'ombra il naufragio seguito alle violente buffere di una gioventù appassionata aveva spinto quest'uomo ardente a rifugiarsi nel monastero dove trascorse anni di rovinosa abnegazione e anche di depressione finché la pazienza del tempo e l'originario vigore della sua natura lo aiutarono a dimenticare e gli infusero nuovo coraggio era divenuto un confratello amato e anche benedetto poiché godeva della fama di chi ha il dono di toccare il cuore e aprire le mani della gente padre mattia infatti tornava al fortunato convento dei viaggi di missione e dalle visite alle famiglie pie della comunità rurale sempre con cospicui introiti sia in denaro liquido che in donazioni senza dubbio questa fama era meritata ma il prestigio derivato al convento e soprattutto il lucichio della moneta sonante avevano accecato i padri tant'è che progettavano sempre nuove spedizioni per il loro amato confratello certo padre mattia aveva superato le tempeste spirituali dei tempi oscuri della sua giovinezza e dava l'impressione di un uomo tranquillo e innanzitutto sereno i cui desideri e pensieri convivevano pacificamente con gli obblighi un vero psicologo invece avrebbe sicuramente visto che la bontà del padre esprimeva solo una parte del suo animo mentre su talune disarmonie nascoste si era applicata una maschera piacevole padre mattia di fatti non era un uomo veramente maturo e completo perché nel suo petto le scorie del passato si erano depositate sul fondo piuttosto con la guarigione dell'anima anche l'antico ganglio vitale connaturato in lui si era risanato e ora per quanto con occhi mutati e più attenti guardava avidamente il mondo per dirla senza preamboli il padre aveva già infranto più volte il voto monastico ma alla sua indole limpida ripugnava cercare i piaceri mondani sotto il mantello della religione e in effetti non aveva mai macchiato il saio certamente però e di questo nessuno sapeva niente se l'era tolto spesso al fine di conservarlo pulito e poterlo indossare di nuovo al termine delle sue capatine nel mondo il suo segreto era pericoloso nascosto in un luogo fidato padre mattia custodiva un bell'abito civile anzi addirittura elegante biancheria intima cappello e accessori compresi e se pur vero che per 99 giorni su 100 vestiva degnamente la tonaca assolvendo ai propri doveri è anche vero che i suoi pensieri segreti si fermavano abbastanza di frequente su quei rari giorni misteriosi che trascorreva in questo o quel luogo da uomo di mondo in mezzo agli uomini questa doppia vita gravava sulla sua anima come un delitto inconfessato il suo cuore era però troppo onesto perché egli ne cogliesse e gustasse l'ironia se fosse stato un monaco cattivo avrebbe forse trovato da tempo il coraggio di confessarsi indegno dell'abito religioso e avrebbe cercato di guadagnarsi una libertà onesta ma invece si vedeva stimato e amato e faceva all'ordine eccellenti servizi vicino ai quali anche i suoi smarrimenti gli sembravano persino perdonabili si sentiva contento e libero quando lavorando onestamente poteva operare per il bene della chiesa e dell'ordine a cui apparteneva e felice era pure quando invocati i sentieri proibiti poteva pagare gli appetiti della sua natura e togliere la spina i desideri a lungo soffocati negli intermezzi oziosi invece riappariva nel suo sguardo buono quell'ombra sgradevole e la sua anima avida di sicurezza oscillava tra il ventimento e la baldanza tra il coraggio e l'angoscia fino a invidiare ora ogni confratello per la sua innocenza ora ogni cittadino per la sua libertà anche in quell'istante non appagato dalla lettura se ne stava seduto davanti alla finestra e distogliendo spesso lo sguardo dal libro contemplava il paesaggio mentre osservava con occhio ozioso il lucente gaio di clivio del colle di fronte a lui notò un singolare corteo di persone che abbandonata la strada delle colline si stava avvicinando sul biottono erano quattro uomini uno quasi elegante gli altri vestiti in abiti malgonci e meschini precedeva il gruppo un gendarme con l'uniforme smagliante mentre gli altri due lo seguivano guardando incuriosito il padre riconobbe presto alcuni condannati che dalla stazione della ferrovia venivano condotti alle carceri distrettuali era una scena che aveva visto altre volte rallegando grato dallo svago esaminò meglio il mesto gruppo provò addirittura compassione per quei poveri diavoli uno dei quali camminava lasciando cadere la testa e compiva ogni passo con ribugnanza e tuttavia pensò che in effetti quegli uomini non erano poi conciati così male come la loro situazione attuale lasciava intuire ciascuno di quei prigionieri si disse ha come traguardo il giorno in cui verrà rilasciato e sarà libero io invece non ho davanti a me quella meta né vicina né lontana ma una comoda prigionia senza fine interrotta solo da rare ore di immaginare a libertà rubate alla monotonia l'uno o l'altro di quei poveracci vedendomi qui seduto può darsi che mi invidi ma una volta libero e tornato alla vita nessuno di loro nutrirà più invidia e tutti mi reputeranno un povero minchione che se ne sta con la pancia piena dietro una bella grata mentre stava inseguendo questi pensieri assorto dalla vista dei prigionieri e dei soldati entrò nella cella un confratello ad annunciarli che il padre guardiano lo stava aspettando nel suo ufficio pronunciate le solite formule di saluto e di ringraziamento con gentilezza padre mattia si levò in piedi sorridendo mise il libro a posto ripulico la mano la manica del saio marrone sulla quale il riflesso dell'acqua formava chiazze color ruggine e a passo rapido in cui la grazia si mescolava immancabilmente alla dignità attraversò i lunghi corridoi freschi fino alla stanza del padre guardiano costui lo accolse con moderata cordialità gli offrì una sedia e cominciò a parlare dei tempi cattivi della manifesta decadenza del regno di dio e della crescente carestia il padre che già conosceva quei discorsi diede molto seriamente le risposte attese sollevò dubbi e colto da una gaia eccitazione vide ormai prossimo il traguardo al quale anche rispettabile signore si stava avvicinando senza fretta con un sospiro il priore concluse che urgeva un'uscita di modo che mattia riverdisse la fede delle anime vie e come si sperava ritornasse con un soddisfacente carico delle testimonianze tangibili della carità dei fedeli il momento aggiunse era incredibilmente propizio poiché in una regione lontana situata più a sud era accaduto che in seguito a una rivoluzione politica molte chiese e conventi fossero stati delituosamente funestati tutti i giornali ne davano notizia e fornì a padre mattia un'ampia scelta di particolari terrificanti o commoventi degli ultimi martiri della chiesa militare ringraziando il padre si ritirò rallegrato scrisse alcuni appunti sul suo tacquino tascabile pensò ad occhi chiusi all'incombenza appena ricevuta trovò soluzioni e prospettive sempre migliori e allora stabilita si presentò di buon umore a tavola dedicò il pomeriggio ai molti piccoli preparativi del viaggio il suo insignificante e fagotto fu presto preparato mentre maggior tempo e cura richiese l'invio delle opportune comunicazioni alle case parrocchiali e ai sostenitori fedeli ospitali della chiesa ne conosceva parecchi verso sera portò alla posta una manciata di lettere ed ebbe ancor più da fare all'ufficio del telegrafo infine si preparò una buona scorta di piccoli obuscoli di volantini e quindi cadde in un sonno profondo e pacifico come un uomo che si predisponesse a un lavoro dignitoso herman s padre mattia capitolo 2 l'indomani mattina qualche attimo prima della sua partenza si verificò un piccolo episodio spiacevole in convento viveva un giovane frate converso un po' scimunito che in precedenza aveva sofferto di attacchi di epilessia ma che ora era amato da tutti per la sua assoluta innocenza e la sua commovente sollecitudine questo candido ragazzo accompagnò il padre fino alla ferrovia reggendogli la piccola borsa da viaggio già per via si era mostrato eccitato e turbato ma giunto alla stazione con gesti supplichevoli tirò il frate ormai prossimo alla partenza in un angolo deserto e tra le lacrime lo scongiurò di rinunciare al viaggio perché un sicuro presentimento gli preannunciava il triste esito della sua missione lo so lo so non tornerete più gridò piangendo lo so con certezza voi non tornerete mai più e buon mattia tentò in vano di convincere il ragazzo sconsolato che sapeva quanto gli fosse affezionato e alla fine fu costretto a svincolarsi dalla sua stretta quasi con la forza per saltare poi su una vettura quando già le ruote del treno si stavano muovendo allontanandosi vide dal finestrino il volto angosciato del demente seguirlo con malinconia e apprezzione il giovane converso nella sua tonaca rattoppata continuò a salutare con la mano prendendo congetto dal frate e quasi supplicandolo mentre il viaggiatore veniva colto per un tratto da un tenue brivido gelido padre mattia fu soprafatto presto dalla gioia di essere finalmente in viaggio amava talmente viaggiare che dimenticò subito la scena penosa di poc'anzi e con sguardo contento e tutte le sue forze spirituali intenzione si avviò incontro alle avventure e alle conquiste promesse dalla sua scorreria nel mondo il paesaggio colinoso e ricco di boschi già percorso dei primi fuochi autunnali si predisponeva ad accogliere una giornata smagliante il padre posò dopo poco il breviario e il piccolo taguino ben fornito di appunti e dal finestrino aperto dalla carrozza si guardò invaso da una benefica attesa il trionfo del giorno che usciva dalle valli ancora velate di nebbia cresceva al di sopra dei boschi acquistava nuovo vigore fino a risuscitare il libato nell'azzurro e nell'oro i suoi pensieri si spostavano agilmente dal godimento del viaggio alle incombenze che lo attendevano avrebbe desiderato dipingere la bellezza feconda di quei giorni dedicate alla metitura e la prossima sicura raccolta della frutta e dell'uva questo paradiso come contrastava con gli orrori di quella lontana regione empia e con le afflizioni dei fedeli di cui doveva riportare notizie le due o tre ore del viaggio in treno trascorsero veloci nella modesta stazione che sorgeva isolata vicino a un boschetto al centro di un campo incolto e nel quale il padre doveva scendere aspettava un grazioso calesse il proprietario salutò rispettosamente l'ospite eclesiastico e costui rispose affabile al saluto salendo divertito sul comodo carretto costeggiando i campi coltivati e i bei pascoli egli partì subito alla volta del ricco villaggio dove avrebbe cominciato il suo lavoro e che gli sorrideva ora invitante ora festoso in mezzo alle vigne e agli ordi appena arrivato l'allegro visitatore prese con benevolenza visione del grazioso paesino ospitale vi crescevano il grano e le bietole prosperavano la vite e gli alberi da frutta le patate e i cavoli erano abbondanti ovunque si avvertiva benessere e sicura prosperità perché mai questa fonte di dovizia non poteva serbare una tazza ricolma anche all'ospite che qui bussava lo accolse il parroco offrendogli alloggio nella canonica e inoltre gli comunicò che per la sera aveva già annunciato la predica del religioso forestiero nella chiesa del villaggio e che vista la sua fama si prevedeva una rilevante affluenza di fedeli anche dal paese vicino l'ospite accolse la lusinga con amabilità e si premurò di colmare il collega di cortesie conoscendo bene come i piccoli parroci di campagna fossero gelosi degli ospiti che sapessero dotati di qualità oratorie il sacerdote gli tese in contraccambio un'insidia gli preparò un pranzo davvero sontuoso che fu servito nella casa parrocchiale subito dopo il suo arrivo anche ora padre mattia riuscì a trovare la strada mediana tra il dovere e l'inclinazione naturale fece onore alle pietanze con sano appetito elogio le locali arti culinarie senza però tanto più col vino oltrepassare la misura da lui tollerata e senza dimenticare il compito per il quale era venuto corroborato e gaio dopo un riposo assai breve poteva già comunicare al padrone di casa di trovarsi nelle migliori condizioni di spirito per iniziare il suo lavoro nella vigna del signore dunque se il parroco aveva per caso architettato il piano malvagio di mettere fuori gioco il nostro frate con la sua generosa ospitalità bisogna dire che il tiro non gli era riuscito aveva comunque pensato di affidare all'ospite un incarico che per la difficoltà e la delicatezza non lasciava proprio nulla a desiderare poco tempo addietro era venuta ad abitare nel villaggio paese natale del marito in una villa di recente costruzione la vedova di un ricco fabbricante di birra conosciuta per il suo scetticismo e la sua abilità oratoria non priva di grazia non meno di quanto fosse rispettata e temuta per il suo denaro la signora francesca tanner si trovava in cima alla lista di coloro a cui padre mattia per espressa raccomandazione del parroco doveva fare visita assai poco edotto dal collega su ciò che lo aspettava il monaco appagato dal cibo si presentò nelle prime ore del pomeriggio alla villa e chiese di parlare con la signora tanner una graziosa servetta lo introdusse nel salotto di ricevimento e qui il fratte dovette aspettare piuttosto a lungo considerò l'attesa una mancanza di rispetto che lo confuse e insieme lo prevenne poi con sua viva sorpresa non comparve una signora di campagna e una vedova ma entrò nella sala una donna dei modi raffinati avvolta in un abito di seta grigia li diede il benvenuto e chiese che cosa desiderasse in tono assolutamente spassionato padre mattia toccò in successione tutti i registri ma ognuno si rivelò disadatto e andò immancabilmente a vuoto mentre l'abile signora sguizzava sorridendo e ad ogni balzo tendeva nuove reti se il frate manteneva la sua solennità la donna cominciava a scherzare e se il suo interlocutore inclinava le minacce spirituali lei decantava innocentemente la sua ricchezza ed elogiava la propria gioia nel compiere le opere di carità sì che il padre si accalorò cedendo al piacere della disputa tanto più che lei gli aveva già lasciato intravedere chiaramente di aver compreso le sue vere intenzioni ma di essere disposta a elargire denaro se mai il frate fosse riuscito a dimostrarle la reale utilità di tale donazione ma poi appena riusciva a impagliare il suo ingenuo visitatore in un leggero tono mondano e socievole all'improvviso riprendeva a rivolgersi a lui con il vocativo devoto di monsignore e mentre allora il monaco cominciava a riprenderla chiamandola paternamente figliola la signora ridiventava una gelida donna di mondo nonostante queste mimetizzazioni e battaglie verbali i due provarono una reciproca simpatia la signora apprezzò del monaco l'aspetto piacente l'attenzione virile con cui aveva cercato di seguire il gioco evitando però di vincerla mentre padre mattie aveva sentito riaffiorare dentro di sé quel segreto piacere istintivo per l'esibizione dell'agile civetteria femminile pur sudando dall'imbarazzo la conversazione di fatti era stata molto gradevole malgrado alcuni momenti difficili e la lunga visita si era svolta in tono amichevole e pacato benché si intende la vittoria morale avesse arriso tacitamente alla donna alla fine la signora porse al padre una banconota confermando a lui e al suo ordine la propria stima ma anche la conclusione dell'incontro si mantenne fedele a forme squisitamente mondane accompagnate semmai da un soffio di ironia persino il ringraziamento finale e il saluto del religioso furono così discreti e cavallereschi che gli dimenticò addirittura la solita benedizione ufficiale le altre visite nel villaggio furono un po' abbreviate e si mantennero nella regola padre mattia si ritirò per una mezz'ora nella sua stanza e da questa uscì fresco e ben disposto per la predica serale il sermone fu eccezionale tra gli altari e i monasteri saccheggiati nel lontano meridione e il bisogno del proprio convento di un po di soldi c'era un intimo rapporto che poggiava non tanto su fredde deduzioni logiche quanto sul sentimento della compassione evocato e potenziato ad arte e su un'imprecisa commozione religiosa le donne piangevano i bossoli delle lemosina intinnavano e il parroco vide con stupore che la signora tanner sedeva tra i fedeli e ascoltava la predica senza partecipazione forse ma senz'altro con viva tensione così l'uscita ufficiale dell'amato frate destinata all'incetta di denaro aveva avuto un avvio sfolgorante sul suo volto riluceva lo zelo frammisto a una soddisfazione sincera e nella tasca nascosta sul petto c'era e cresceva il piccolo tesoro in banconote e in monete che nel frattempo i maggiori giornali di fuori informassero che la situazione dei conventi danneggiati dai moti rivoluzionari non era affatto così brutta come era apparsa nel caos del primo momento il padre non poteva saperlo e se anche lo avesse saputo non si sarebbe lasciato minimamente turbare sette comunità ebbero la gioia di accoglierlo e il viaggio procedete nel modo più soddisfacente avvicinandosi all'ultimo piccolo borgo che doveva ancora visitare già vicino al confine con la regione protestante il padre ricordò con orgoglio e nostalgia i giorni appena trascorsi del suo trionfo e pensò che per qualche tempo il silenzio del monastero e la noia acidiosa sarebbero seguiti alle piacevoli citazioni del viaggio proprio quei periodi erano stati sempre i più odiosi e temuti da padre mattia perché il tumulto e l'eccitamento soggiunti con l'allegro lavoro straordinario si placavano e dietro alle sue pose quinte sbucava la manuttonia della quotidianità la battaglia era stata combattuta la ricompensa era nel portamonete e non rimaneva altra seduzione se non la breve gioia della consegna e dell'elogio e questa non era già più una gioia vera da quella frazione invece non era molto lontano il luogo in cui servava il suo singolare segreto e quanto più il sentimento festoso scemava e si avvicinava il ritorno tanto più violento cresceva in lui il desiderio di sfruttare l'occasione favorevole e di trascorrere un'intera giornata d'allegria senza il saio il giorno prima non avrebbe voluto saperne ne succedeva ogni volta e forse era stanco di lottare ma alla fine di ogni viaggio compariva sempre all'improvviso il tentatore e per lo più egli li cedeva e così accadde anche questa volta padre mattia visitò l'ultimo borgo sbrigò coscienziosamente le varie incombenze per recarsi infine a piedi fino alla stazione ferroviaria più vicina che situata in terra protestante era per lui sicura in mano reggeva però una graziosa valigetta che il giorno addietro nessuno gli aveva visto herman s padre mattia capitolo 3 alla stazione di un soborgo animato dove arrivavano e partivano numerosi treni padre mattia scese con la valigia in mano e non notato da nessuno si mosse con calma verso una bassa costruzione di legno sulla quale troneggiava un'insegna bianca con la scritta uomini si trattenne in quel luogo pressoché un'ora finché dai numerosi treni in arrivo si riversò una moltitudine di gente egli uscì proprio in quell'attimo aveva ancora la stessa valigetta ma non era più padre mattia era bensì un bell'uomo nel fiore dei suoi anni vestito bene seppure non proprio alla moda che diede in consegna il bagaglio allo sportello e poi si incamminò senza fretta alla volta della città dove lo si vide ora fermo davanti alla vetrina di un negozio e infine perdersi nel frasuono delle strade avvolto dalla miriade di suoni compositi e vibranti aggredito dal bagliore delle botteghe dalla polvere resa iridescente dalla sole e signor mattia respirò l'inebriante varietà e l'amabile cromatismo del mondo i suoi sensi non ancora guasti erano ricettivi ed egli cedere docilmente a ogni impressione gaia gli sembrava stupendo vedere signore eleganti passeggiare con i loro cappelli piumati o sedute nelle eleganti carrozze trovò delizioso prendere in un bel negozio dal tavolo di marmo una tazza di cioccolata e un delicato liquore francese dolciastro come prima colazione e dopo riscaldato e rasserenato dentro di sé camminare di tanto in tanto sostare dinnanzi alle colonne tapezzate di affissi e informarsi sui trattenimenti promessi per la sera riflettere dove si pranzava meglio a mezzogiorno ne avvertiva un effetto benefico in tutte le fibre del suo corpo inseguì questi piaceri grandi e piccoli senza fretta provocando una riconoscenza infantile e chi lo avesse osservato non avrebbe mai pensato che quel bell'uomo simpatico potesse percorrere strade proibite consumò un eccellente pranzo con caffè e sigaro a pomeriggio avanzato nel ristorante sedette vicino a una delle enormi vetrate che dal soffitto giungevano fino al pavimento e attraverso il fumo odoroso del sigaro guardò con soddisfazione il via vai della strada leggermente appesantito dal cibo e dalla lunga sosta osservò imperturbabile il flusso dei passanti all'improvviso si stirò arrossendo appena il volto e seguì con sguardo attento l'esile silhouette di una donna nella quale per un attimo credete di riconoscere la signora tanner ma si avvide di aver sbagliato e avertì una leggera delusione e si alzò per andar via un'ora più tardi era fermo davanti agli affissi di un cinematografo e lesse i titoli a caratteri cubitali delle rappresentazioni annunciate teneva intanto un sigaro acceso in mano e ad un tratto fu interrotto nella lettura da un giovanotto che con cortesia gli chiese del fuoco per la sua sigaretta ben disposto soddisfece la piccola richiesta osservando intanto il forestiero e dicendogli se non sbaglio l'ho già vista stamane non era al caffè royal il forestiero a noi ringraziò gentilmente fece il gesto di togliersi il cappello e mentre stava per proseguire cambiò improvvisamente parere e sorridendo disse entrambi credo non siamo di qui io sono in viaggio e cerco solo un paio di orette di sano divertimento magari una parentesi femminile per questa sera se non a nulla in contrario potremmo stare un po insieme l'idea piacque a signor mattia e due oziosi se ne andarono a zonzo uno accanto all'altro lo straniero si teneva cortesemente sempre alla sinistra del suo accompagnatore più anziano senza sfaggiataggine chiese al nuovo conoscente da dove venisse e quali prospettive avesse ma notando che mattia dava schiarimenti imprecisi e anzi si esprimeva quasi con impaccio lasciò cadere con non curanza la domanda e avviò un'allegra chiacchierata che divertì il compagno il giovane signor brenting dava l'impressione di aver viaggiato molto ed intendersi parecchio dell'arte di procacciarsi una giornata piacevole in città straniere anche in quella località era già stato più volte e si ricordava di alcuni locali di piacere in cui aveva trovato una compagnia molto simpatica e aveva trascorso ore deliziose fu così del tutto naturale che assumesse la guida con il riconoscente beneplacito di mattia solo un tasto scabroso si permise di toccare subito pregò mattia di non volergliene se insisteva sull'opportunità che ciascuno pagasse la sua quota di tasca propria e questo perché come aggiunse scusandosi pur non essendo né un calcolatore né uno spilorcio preferiva essere meticoloso nelle questioni finanziarie e per i divertimenti di quel giorno era disposto a sacrificare non più di un paio di marenghi sicché se per caso il suo accompagnatore fosse stato abituato alla grandiosità sarebbe stato meglio separarsi da buoni amici senza rischiare eventuali delusioni di sapori anche questa franchezza incontrò i gusti di mattia dichiarò che non si trattava di 20 centesimi d'oro in più o in meno e di essere d'accordo e persuaso che se la sarebbero cavata benissimo insieme a brentinger intanto era venuta sete d'un goccetto come disse e in ogni caso era ormai tempo aggiunse che brindassero alla loro piacevole amicizia con un bicchiere di vino attraverso vicoli sconosciuti il giovanotto condusse l'amico in una locanda fuori mano dove si era sicuri di trovare un goccio di quello buono entrarono da una porta a vetri tintinnante in un ambiente angusto e basso erano gli unici avventuri l'oste piuttosto sgarbato portò una bottiglia su richiesta di brentinger l'apri e versò agli ospiti un vino bianco chiaro e fresco leggermente frizzante i due brindarono e l'oste si ritirò dopo poco al suo posto comparve una ragazza alta e carina che salutò sorridendo i due uomini e essendo già vuoto il primo bicchiere assunse l'incarico della mescita salute disse brentinger a mattia e rivolgendosi alla ragazza salute bella signorina la ragazza rise porgendo scherzosamente il salino per il brindisi ma lei non ha niente con cui brindare esclamò brentinger e andò a prendere un bicchiere della credenza venga venga signorina e ci faccia un po di compagnia così le colmò il bicchiere e la invitò a prendere posto tra lui e il suo conoscente la fanciulla non si rifiutò l'assoluta facilità con cui avevano stretto la nuova amicizia fece impressione al signor mattia che però brindò con la ragazza e sospinse la propria sedia più vicino alla sua nel triste locale si era intanto fatto buio la cameriera accese qualche lume a gas e notò che nella bottiglia il vino era finito la seconda sul mio conto esclamò il signor brentinger l'altro non volle e così nacque un piccolo diverbio che durò finché brentinger accondiscese a condizione però che poi si sarebbe bevuto con una bottiglia di champagne a sue spese la signorina meta nel frattempo aveva portato la nuova bottiglia e si era seduta al posto di prima mentre il più giovane di due signori era occupato col cavatappi la ragazza accarezzò piano sotto il tavolo la mano di mattia che accaloratosi partì alla conquista di meta la inseguì posando il piede sopra il suo la ragazza lo ritrasse ma in cambio gli accarezzò di nuovo la mano i due rimasero così seduti l'uno accanto all'altra trionfanti in tacito accordo mattia divenne più loquace e raccontò continuando a brindare con gli altri di orge a cui aveva partecipato in gioventù e il vino sofisticato riscaldava e rendeva gli occhi lucidi quando qualche istante dopo la signorina meta disse di averne dintorno un'amica molto carina e simpatica nessuno dei due cavalieri ebbe niente in contrario a che la si invitasse a unirsi a loro per festeggiare la serata fu spedita con la commissione la vecchia che intanto aveva sostituito l'oste e mentre il signor brentinger si ritirava per qualche minuto mattia trasse a sé la graziosa meta e la baciò calorosamente sulla bocca la ragazza lasciò fare sorridendo ma quando egli si fece più impetuoso e pretenzioso la ragazza lasciò fare sorridendo ma quando egli si fece più impetuoso e pretenzioso lo colpì con un'occhiata sfolgorante dei suoi occhi focosi schermendosi la porta vetri a molla più che il gesto della donna imitante al silenzio lo trattenne dietro di lei infatti non c'era solo l'amica attesa bensì una seconda ragazza con suo fidanzato un giovane con pretese dell'eleganza portava un piccolo cappello e aveva i capelli neri lisci divisi al centro mentre la bocca sporgeva arrogante e violenta sotto i baffi piegati all'insù nel medesimo istante rientrò anche brentinger furono fatte le presentazioni e si avvicinarono due tavoli di modo che si cenasse tutti insieme il compito di ordinare fu lasciato a mattia che optò per il pesce seguito da arrosto di manzo e su proposta di meta anche da un vassoio con caviale salmone e sardine per desiderio della sua amica la lista delle vivande fu conclusa da una torta ma con un disprezzo sorprendentemente isterico il fidanzato dichiarò che una cena senza volatili era meno che niente e chi avrebbe preferito non mangiare se al manzo non fosse seguito un faggiano arrosto meta tentò di dissuaderlo ma il signor mattia che intanto era passato a un vino di borgogna intervenne in tono gioviale ma che non si può non ordinare il faggiano i signori spero saranno ospiti miei l'invito fu accettato la vecchia scomparve con la lista delle pietanze mentre si faceva vedere di nuovo l'oste meta era tutta attenzioni per mattia la sua amica sedeva di fronte vicino al signor brentinger la cena che non fu preparata nella locanda ma arrivò dall'altro lato della strada fu servita dopo poco ed era buonissima alla fine del pasto la signorina meta fece conoscere al suo ammiratore un nuovo piacere in un grosso bicchiere senza stelo gli pose una mistura delicata che aveva preparato appositamente per lui e che era fatta come spiegò con spumante e scerni e cognac la bevanda era gustosa solo un po pesante e dolciastra lei stessa avvicinava le labbra al bicchiere e ne sorseggiava un po invitandolo a bere mattia avrebbe desiderato offrirne un bicchierino anche a brentinger ma questi rifiutò scusandosi di non amare i liquori dolci e spiegando che la bevanda aveva il solo svantaggio di non ammettere dopo di sé nient'altro che spumante ma questo non è uno svantaggio gridò ad alta voce mattia gente forza che si porti lo champagne scoppiò in una fragorosa risata mentre gli occhi gli si inumidivano da quel momento fu un uomo irrimediabilmente ubriaco rideva in continuazione senza motivo spandeva il vino sul tavolo e avanzava lasciandosi portare dall'ampia corrente delle brezze e del piacere solo di tanto in tanto tornava in sé per qualche minuto guardava stupito il sollazzo intorno a lui afferrava la mano di meta la baciava e accarezzava per subito lasciarle dimenticarla una volta si alzò pure in piedi con l'intenzione di brindare ma il bicchiere traballante nella sua mano cadde e si ruppe sulla tavola provocando un'altra risata schietta ma già stanca meta lo tirò per la giacchetta finché egli si sedette sulla sedia brentinger gli offrì un bicchiere d'acqua vite di ciliegie esortandolo con grande serietà mattia lo vuotò e il sapore forte e bruciante della grappa fu l'ultimo oscuro ricordo di quella sera rimasto nella sua memoria herman s padre mattia capitolo 4 dopo un sonno pesante si destò con gli occhi velati e un'orrenda sensazione di vuoto spossatezza dolore e nausea il mal di testa e le vertigini lo costrinsero a restare supino mentre gli occhi senza più umore li bruciavano e sulla mano gli doleva un'ampia scalfitura ormai asciutta di cui non ramentava la provenienza solo lentamente la sua coscienza si riebbe e allora egli si drizzò a sedere si esaminò cercando qualche appiglio per la sua memoria si trovava semi svestito in una camera in un letto mai visti balzando in piedi terrorizzato si avvicinò alla finestra e scorse una strada sconosciuta nella luce del mattino gemendo versò dell'acqua nel calcatino fino a colmarlo e si inumidi la faccia calda e deformata mentre passava l'asciugamano sul volto per asciugarlo un brutto sospetto gli trafisse il cervello si buttò affannosamente sulla giacca la trasse a sé la palpò la rovesciò infirò la mano in ogni tasca e come impietrito la lasciò infine scivolare a terra allargando appena le dita tremanti era stato rapinato e il grosso portafogli di cuoio nero non c'era più riflette e di colpo tutto gli tornò alla mente erano oltre mille corone di carta moneta ed oro si sdraiò con calma di nuovo sul letto e vi rimase senz'altro una mezz'ora come solo avessero ucciso l'ubriacchezza e la sonnolenza erano completamente svanite non sentiva più neanche i dolori avvertiva semmai una grande stanchezza e un grande sconforto ad agio si levò si lavò con cura batte con la mano e ripulia la meglio gli abiti infangati si vestì e si guardò allo specchio che gli restituì l'immagine di un viso gonfio triste e a lui estraneo con un'estrema risoluzione radunò tutte le forze per riflettere sulla sua situazione dopodiché con calma e amarezza prese le poche decisioni che gli rimanevano anzitutto perquisì tutti i suoi capi d'abbigliamento ma anche il letto e il pavimento la giacca era vuota mentre nel pantalone trovò una banconota stropicciata da 50 corone e 10 corone d'oro altro denaro non c'era tirò il cordone del campanello e al cameriere che stava entrando chiese a che ora fosse rientrato la notte passata il giovanotto lo guardò in faccia con un sorriso e disse che se il signore non se lo ricordava più chi poteva saperlo era solo il portiere lo fece venire gli diede la moneta d'oro e lo interrogò quando era tornato all'albergo verso le 12 aveva perso conoscenza no pareva fosse ubriaco ma chi lo aveva accompagnato due giovani avevano detto che il signore aveva ecceduto a un banchetto e desiderava dormire lì lui a tutta prima non voleva accettarlo ma si era lasciato persuadere da una bella mancia avrebbe riconosciuto i due uomini sì cioè uno solo quello con il cappello duro mattia congedò il portiere e chiese il conto con una tazza di caffè il caffè era bollente lo pagò e se ne andò non conosceva il quartiere della città in cui si trovava la lucanda e seppure a furia di camminare incontrò strade conosciute o semi sconosciute dopo ore e ore non riuscì ancora a ritrovare quella piccola osteria dove i fatti del giorno avanti si erano svolti non che sperasse tuttavia di recuperare il perduto dal momento in cui era stato sopraffato dal primo improvviso ballume di sospetto e aveva rovistato nella giacca senza trovarvi il portafogli si era reso conto che non c'era nulla da salvare questa sensazione non andava affatto confusa con il senso di una seccatura o di una disgrazia di cui fosse stato vittima era un'impressione esente da ogni ribellione assomigliava piuttosto all'accettazione senz'altro amara ma concorda e risoluta dell'accaduto questa percezione dell'armonia tra evento successo e il proprio sentimento tra la necessità interiore ed esteriore di cui solo pochissime persone sono capaci salvò il povero monaco ingannato dalla disperazione nemmeno per un solo istante pensò di ricorrere a un'astuzia per scagionarsi e riacquistare l'onore e la stima né fu mai sfiorato dall'idea di fare del male alla propria persona egli non avvertì null'altro che una necessità chiarissima e giusta che lo intristiva ma contro la quale nessuno dei suoi pensieri protestava di fatti più forte dell'ansietà e della prensione era in lui l'altra sensazione celata ed esterna la coscienza il senso della redenzione perché ora veniva posto fine al suo scontento e alla sua oscura doppia vita condotta e tenuta nascosta per anni anche ora come a volte in passato dopo aver commesso piccole mancanze senti il senso doloroso e intimo di liberazione di chi si inginocchia davanti al confessionale e intuisce l'imminenza dell'umiliazione della punizione ma nello stesso istante avverte come il peso opprimente delle azioni inconfessate si stia già dileguando comunque non aveva affatto ed è chiare sul da farsi aveva deciso in cuor suo di uscire dall'ordine e di rinunciare a tutti gli onori gli pareva però seccante di nessuna utilità sottostare alle scene disgustose e dolorose connesse con la radiazione ufficiale e la conseguente condanna infine pensando da uomo libero egli non aveva commesso nessun infame delitto e chi aveva rubato l'ingente somma di denaro del convento non era stato lui ma evidentemente quel tal signor brettinger una cosa gli fu subito chiara quello stesso giorno doveva accadere qualcosa di decisivo infatti se non fosse tornato subito al monastero sarebbero nati i sospetti si sarebbero cominciate le ricerche ed egli non avrebbe più avuto libertà d'azione stanco e affamato cerca un refettorio mangiò un piatto di minestra e saziatosi alla svelta e tormentato da confusi ricordi esattamente come aveva fatto il giorno prima pressa poco alla stessa ora adesso però i suoi occhi erano stanchi mentre stava valutando la sua situazione dai vari punti di vista sentì un'orrenda oppressione spirituale si era reso conto di non avere sulla terra nemmeno una persona a cui confidare la propria miseria con fiducia e speranza un amico che lo aiutasse lo consigliasse lo mettesse sulla retta via salvandolo o semplicemente consolandolo d'improvviso affiorò alla sua memoria il ricordo della scenata svoltasi solo qualche settimana prima ma ormai completamente dimenticata e si ricordò del giovane converso un po mentecato in piedi sul marciapiede della stazione locale che nella sua tona cara toppata lo seguiva con uno sguardo angoscioso e supplichevole allontanò bruscamente quel ricordo costringendosi a seguire l'animazione della strada e fu allora che per segreti meandri li tornarono alla mente un nome e una figura a cui la sua anima si aggrappò con fiducia istintiva era la signora francesca tanner la ricca giovane vedova solo qualche giorno prima ne aveva mirato lo spirito il tatto eppure la sua immagine avvenente e severa lo aveva accompagnato in segreto socchiuse le palpebre e la vide nell'abito di seta grigia vide la sua bocca intelligente e quasi beffarda nel bel volto pallido e quanto più attentamente osservava fino a sentire il timbro sonoro e deciso della sua voce chiara e a percepire lo sguardo fermo e insieme calmo e scrutatore dei suoi occhi grigi tanto più li parve naturale nella propria inconsueta situazione appellarsi a quella donna non comune riconoscente e allegro perché vedeva chiaro davanti a sé il primo tratto del suo cammino si predispose subito a realizzare il proprio fermo proposito da quel minuto fino all'istante in cui si trovò al cospetto della signora tanner compì ogni passo con sicurezza e rapidità esitò un'unica volta fu quando raggiunse la stazione di periferia dove il giorno prima aveva iniziato il suo cammino di pecatore e dove aveva lasciato in custodia la valigetta era intenzionato a presentarsi alla signora tanner con il saio se non altro per non spaventarla troppo e proprio per questa ragione era arrivato fin lì ora però che gli mancava di fare solo un passo per giungere lo sportello e chiedere ciò che era di sua proprietà l'intenzione gli parve all'improvviso stolta e disonesta anzi avvertì come non mai un tale orrore disgusto al pensiero di tornare a vestire l'abito monastico che cambiò idea in un batter d'occhio e giurò a sé stesso di non indossare mai più la tonaca succedesse quel che succedesse che con gli altri averi gli fosse stato sottratto anche lo scontrino del bagaglio in quel momento non lo sapeva né ci pensò lasciò la valigia dov'era in abiti secolari e non più vestito da frate compì lo stesso tragitto che aveva percorso il giorno innanzi certamente certamente quanto più il treno si avvicinava alla sua destinazione tanto più egli sentivo il cuore battergli per l'affanno stava ormai attraversando la regione in cui solo pochi giorni prima aveva predicato e in ogni passeggero che saliva sospettava inevitabilmente chi lo avrebbe smascherato e avrebbe visto per primo la sua vergogna ma il caso e le prime luci della sera gli furono favorevoli tant'è che raggiunse l'ultima fermata senza che nessuno lo riconoscesse o infastidisse la notte stava calando quando a piedi si incamminò sulla strada che portava al villaggio e che solo pochi giorni avanti aveva superato sul calesse e in pieno sole si sentiva le gambe stanche notando che dalle imposte filtrava la luce la sera stessa tirò la campanella sul lato del portone di villa tanner gli aprì la serva che aveva aperto l'altra volta senza riconoscerlo gli domandò cosa desiderasse mattia chiese di poter parlare con la signora e le porsi un biglietto chiuso che per precauzione aveva scritto in città temendo l'ora tarta la donna lo fece aspettare fuori richiuso il portone e si assentò per qualche minuto ma lo riaprì dopo poco lo fece entrare scusandosi impacciata per l'eccessivo timore di poccanzi e lo accompagnò nel salotto della signora che lo stava già aspettando da sola buonasera signora tanner disse con voce che tradiva l'imbarazzo posso disturbarla ancora per un attimo lei lo salutò discreta e lo osservò se come dice il biglietto viene per una questione importante sono a sua disposizione ma come si è vestito sapesse sapesse gentile signora che cosa mi è capitato la sua voce si ruppe e per un istante sembrò che le lacrime lo strozzassero ma mattia riuscì a mantenere il controllo su di sé e si scusò dell'imbarazzo compiendo uno sforzo enorme dopodiché seduto in una comoda poltrona iniziò subito il suo racconto cominciò da lontano spiegando come da parecchi anni fosse ormai stanco della vita caustrale e si dovesse rimproverare più di una infrazione delle regole monastiche quindi passò a una breve descrizione della sua gioventù del tempo trascorso in convento delle predicazioni e dell'ultima missione senza soffermarsi troppo sui particolari ma con onestà e senza mezze parole la informò infine sull'avventura capitata agli in città capitolo 5 al racconto fece seguito una lunga pausa la signora tanner lo aveva ascoltato con attenzione e senza interromperlo aveva sorriso di tanto in tanto ho scosso la testa ma aveva seguito ogni parola con uguale tensione e serietà ora attacquero entrambi per qualche attimo non vuole fare prima di tutto uno spuntino chiese alla fine in ogni caso stanotte resterà qui potrà dormire nella casa del giardiniere il padre accettò con gratitudine l'ospitalità ma non vuole sapere né di mangiare né di bere ma che cosa si aspetta da me ora chiese la donna lentamente innanzitutto il suo consiglio non so neanche io da dove nasca questa mia fiducia ma in tutte queste ore amare non mi è venuto in mente nessuno in cui potessi sperare mi dica la prego che cosa posso fare e accennò ad un lungo sorriso mi dispiace disse che non me l'abbia chiesto avanti ieri posso capire che lei sia troppo buono o al contrario troppo desideroso di vita per un monaco ma non è bello che voglia tenere nascosto il suo ritorno alla condizione secolare per questo è punito difatti la sua richiesta di uscire dall'ordine che poteva essere spontanea e onorata è ora obbligata mi pare che non le rimanga altro da fare che deferire la faccenda al giudizio dei suoi superiori esponendole in tutta chiarezza o forse questa non è la sua idea certo certo è anche la mia idea bene allora e poi che farà e questo è il punto senz'altro non mi tratterranno al convento e ne io lo accetterei mai il mio desiderio è iniziare una vita tranquilla e vivere onestamente del mio lavoro sono pronto ad accettare qualunque mansione onorevole che mi si offra e ho acquisito talune conoscenze che possono servirmi bene me l'aspettavo da lei sì però io non solo verrò congedato dal convento ma dovrò anche farmi garante di persona delle somme che mi sono state affidate che appartengono al monastero io non mi sono appropriato di quei soldi io li ho perduti per colpa di furfanti sarebbe un'amara evenienza l'esser chiamato a risponderne come un volgare impostore sì mi rendo conto ma come vuole prevenirla questa faccenda non lo so ancora come ovvio e naturale vorrei tentare di risarcire il denaro il più alla svelta possibile ed eventualmente tutto se si potesse fornire una garanzia temporanea verrebbe senz'altro evitato un procedimento giudiziario a mio carico la signora lo scrutò con uno sguardo indagatore in tal caso quali sarebbero i suoi piani chiese poi in tono pacato mi cercherei un lavoro fuori regione e mi sforzerei di estinguere il debito se invece la persona che si faccesse garante mi dovesse dare un diverso consiglio e desiderasse impiegarmi altrimenti il suo volere sarebbe per me un ordine la signora tanner si levò in piedi e fece alcuni passi nervosi attraverso la stanza si fermò alla penombra fuori del cono luminoso della lampada e da lì disse a bassa voce e scusi ma la persona di cui parla che dovrebbe garantire per lei sarei per caso io anche mattia si era alzato sì se vuole disse traendo un profondo respiro può darsi che sia stato azzardato aprirle il mio cuore la conoscevo appena cara signora mi pare fantastica aver trovato questo coraggio nella mia attuale situazione ma non conosco giudice al quale sottomettermi solo il suo verdetto signora qualunque esso sia posso accettare dica una sola parola e oggi stesso scomparirò dalla sua vista la signora si ritrasse avvicinandosi al tavolo sul quale giacevano ancora un fine lavoro di ricamo e un giornale ripiegato e nascose le ditta mosse da un leggero tremito dietro la schiena poi con un tenue sorriso disse poi con un tenue sorriso disse la ringrazio per la sua fiducia signor mattia e senz'altro in buone mani ma gli affari non si sbrigano di sera andiamo a riposare ora la serva l'accompagnerà nella casa del giardiniere domani mattina presto alle sette ci troveremo qui per la colazione e riprenderemo il discorso così farà ancora in tempo a prendere il primo treno quella sera il padre fuggitivo dormì molto meglio dalla benevola padrona di casa in otto ore di sonno profondo recuperò il riposo perduto di due giorni e due notti e si svegliò per tempo era riposato e lucido tanto che la signora tanner vedendolo comparire per la colazione l'osservò sorpresa e compiaciuta lei aveva invece passato gran parte della notte a riflettere sulla vicenda di mattia la preghiera del frate per quanto ateneva i soldi perduti non la preoccupava quasi mentre si era sentita stranamente commossa che uno straniero con cui aveva avuto un unico contatto fugace fosse venuto da lei nell'ora del bisogno e quasi con la stessa fiducia con cui un fanciullo cerca la madre e che non si fosse stupita ma avesse anzi compreso il comportamento di quell'uomo e se lo fosse in un certo senso aspettato quando per sua indole propendeva piuttosto la sfiducia le pareva il segno che tra lei e il forestiero esistesse un moto di fraternità e di segreta armonia il padre le aveva lasciato un'impressione piacevole dopo la sua prima recente visita le era apparso una persona capace e buona e per di più era un bell'uomo inoltre colto ciò che aveva appena saputo non aveva mutato il suo giudizio semmai la figura del frate le sembrava ora avvolta nella luce incerta dell'avventura e il suo carattere aveva palesato una certa debolezza tutto ciò sarebbe stato insufficiente ad accordare all'uomo la sua partecipazione nella quale la richiesta di un eventuale garanzia o di un prestito in denaro non aveva certamente alcuna parte ma proprio questa strana simpatia che la legava allo stesso straniero e che non era affatto diminuita nei pensieri ansiosi della notte veniva ora illuminata da una luce diversa perché il lato finanziario e l'aspetto personale si erano ormai fusi e preoccupazioni secondarie acquistavano un'importanza nuova quasi fatidica se quell'uomo aveva veramente un potere così potente su di lei e se tra loro esisteva una così forte attrazione un semplice regalo non serviva più si dovevano costruire legami e rapporti duraturi che potessero esercitare una grande influenza sulla loro vita aiutare semplicemente l'ex monaco uscire dalla sua attuale situazione spiacevole aiutarlo a riparare all'estero soccorrendolo con una soma di denaro e scartando ogni partecipazione al resto del suo destino non era ciò che la donna voleva quell'uomo aveva un prezzo più alto d'altro canto dopo quelle confessioni che se non altro erano singolari esitava ad accoglierlo nella sua vita e proprio perché libera e chiara le piaceva e d'altronde si rammaricava anzi le sembrava assurdo lasciare il poveretto senza aiuto aveva così riflettuto per ore e ore e difatti quando dopo un sonno breve con barbe vestita elegante nella stanza della prima colazione dette l'impressione d'essere indebolita e stanca mattia la salutò guardandola negli occhi e lei sentì il suo cuore scaldarsi di nuovo si avvide che le parole dette la sera innanzi erano vere e che quell'uomo non avrebbe mai mutato pensiero diverso il latte il caffè senza più aggiungere altro se non le frasi necessarie per mantenere viva la conversazione e ordinò di attaccare il cavallo al calesse perché l'ospite tra poco doveva recarsi alla stazione ferroviaria con un gesto grazioso mangiò l'uovo da un bicchierino d'argento e poi prese una tazza di latte solo quando ebbe finito e l'ospite ebbe preso il suo caffè latte cominciò a parlare ieri mi ha rivolto una domanda disse e una preghiera sulle quali ho riflettuto parecchio mi ha anche fatto una promessa e cioè che avrebbe seguito in tutto e per tutto il mio consiglio parlava seriamente e lo sottoscrive ancora egli la osservò con uno sguardo serio e intenso e disse soltanto sì le dirò allora ciò che ho predisposto lei sa che con la sua preghiera non diviene solo mio debitore ma avvicina la sua vita alla mia in modo che per l'importanza e le conseguenze è vincolante per entrambi lei però non voleva da me un regalo ma la mia fiducia è la mia amicizia la cosa mi fa piacere mi onora ma lei stesso ammetterà che la sua richiesta mi giunge in un momento in cui la sua condotta non è esemplare e talune riserve nei suoi confronti sono consentite e lecite mattia annui arrossendo ma presto si riprese con un sorriso piuttosto lungo al che la signora cambiò subito tono unendovi una parvenza di maggior serietà appunto per questo io non posso accettare la sua proposta egregio signore ho troppe poche garanzie della sua tendibilità e della sua coerenza e dei suoi buoni propositi di quale natura siano la sua amicizia e la sua fedeltà me lo può dire solo il tempo e che cosa sarà del mio denaro non so nulla se non la vicenda con il signor breitinger che lei mi ha raccontato perciò propendo a prenderla in parola lei mi è troppo caro perché io la possa liquidare con dei soldi e insieme lei mi è troppo estraneo perché la possa accogliere così tutto d'un tratto nella mia vita perciò metto la sua fedeltà a una prova piuttosto dura dicendole torni affidi la faccenda al convento e si sottomette in tutto e per tutto al volere della giustizia anche nel caso di una punizione se vorrà fare ciò con coraggio e dignità senza menzionare mai il mio nome le prometto in cambio che in seguito non nutrirò più il minimo dubbio nei suoi confronti e l'aiuterò qualora lei desiderasse incominciare una nuova vita con ardore e allegria mi ha capito sarà così il signor mattia prese la mano che gli veniva tesa ammirato e profondamente commosso guardò la donna nel suo bel viso pallido un po eccitato e con più un insolito movimento brusco tanto che pareva stesse per stringerla tra le braccia fece al contrario un profondo inchino e impresse un bacio sicuro sulla sua mano sottile ed elegante quindi uscì a testa alta dalla stanza senza più salutare attraversò il giardino e salì sul calesse che aspettava fuori mentre la signora seguiva con uno strano sentimento confuso e i movimenti risoluti dell'uomo capitolo 6 arrivato al monastero in abito da città e stranamente mutato in volto cercò senza indugi di conferire col padre guardiano nelle antiche stanze del convento vibravano la paura e la sorpresa miste a una grande curiosità ma nessuno riuscì ad avere notizie precise già un'ora dopo invece ebbe luogo una seduta segreta dei superiori in cui nonostante le molde e perplessità si convenne che era opportuno tenere il caso accuratamente segreto consolarsi dei denari perduti e punire il frate inviandolo in un convento all'estero per un periodo piuttosto lungo di espiazione mattia fu introdotto nella sala perché udisse la decisione non servirono né le minacce né le parole persuasive fu irremovibile nel chiedere il congetto dall'ordine se gli si voleva prorogare il risarcimento della somma perduta per propria leggerezza aggiunse considerandola una colpa personale e se gli si dava il tempo di racimolarla avrebbe considerato l'eventualità come un enorme grazia e ne sarebbe stato riconoscente altrimenti preferiva che la questione fosse portata davanti a un tribunale civile era un brutto pasticcio mentre mattia veniva tenuto per giorni e giorni chiuso nella sua cella agli arresti duri la sua faccenda interessò i superiori fino a roma senza che il prigioniero sapesse una parola sul proseguio delle cose la vicenda si sarebbe protratta ancora per molto tempo se un inatteso scossone proveniente dall'esterno non l'avesse rimessa in moto all'improvviso imponendole un nuovo corso dieci giorni dopo il triste ritorno del padre infatti le autorità chiesero celermente per via d'ufficio al convento se per caso negli ultimi tempi non si fosse smarrito un ospite o semplicemente una tonaca giacché un abito monastico era stato rinvenuto in una misteriosa valigetta a mano consegnata in una certa stazione la valigia che si trovava in deposito da dieci giorni era stata aperta per forza maggiore a causa di un processo in sospeso a carico di un farabuto arrestato con pesanti sospetti e trovato in possesso oltre che di altri avere rubati anche dello scontrino di detta valigia uno dei frati allora si precipitò dalle autorità chiese informazioni più precise e non ricevendole si recò senza frapporre indugi nel vicino capoluogo di provincia dove si dette gran pena ma inutilmente di confutare ogni relazione tra le tracce lasciate dal buon padre mattia e il processo contro il malfattore il pubblico ministero invece dimostrò un vivo interesse per queste tracce anzi avrebbe desiderato con sommo piacere conoscere di persona il frate che era stato dato per malato questi fatti provocarono un brusco cambiamento improvviso nella tattica dei padri per salvare il salvabile radierono padre mattia dall'ordine con tutta l'ufficialità del caso lo consegnarono alla procura accusandolo di appropriazione indebita dei denari del convento e da quell'istante il processo del frate non riempì sorogliati dei giudici e degli avvocati ma anche le prime pagine dei giornali essendo divenuto una storia scandalistica e il nome di mattia è che giò così per l'intera regione siccome nessuno si interessava a lui l'ordine lo aveva completamente abbandonato e l'opinione pubblica rappresentata negli articoli dei quotidiani liberali non lo risparmiava anzi coglieva l'occasione per una piccola allegra campagna denigratoria contro i conventi l'accusato venne a trovarsi in un vero e proprio inferno di sospetti e denigrazioni peggiore di quanto l'avesse combinata ma seppur afflitto seppe comportarsi bene e non fece nessuna missione che non rispondesse alla pura verità e i due processi che avevano parecchi lati in comune furono risolti rapidamente provando sentimenti bizzarri mattia si vide ora accusato dai parroci e dai sagrestani della contrata in cui aveva predicato ora invece messo a confronto come testimone con la graziosa meta e con il signor breitinger il quale veramente non si chiamava breitinger ma era ovunque noto come truffatore e ruffiano con il nome di jacopo lo smilzo non appena la partecipazione dell'ex frate all'affare breitinger fu chiarita costui e il suo seguito sparirono dalla vista di mattia pochi dibattimenti energici prepararono allora il suo verdetto fin dall'inizio egli era rassegnato a una condanna ma la scoperta di molti particolari della sua giornata in città la condotta dei padri e la stessa opinione pubblica pesarono alla fine sul giudizio della corte i giudici infatti applicarono per la sua trasgressione il paragrafo più scabroso e lo condannarono a una pena detentiva assai lunga fu un brutto colpo per mattia anche perché non gli pareva che la sua colpa commessa senza alcuna perversità meritasse una punizione così dura lo tormentava soprattutto il pensiero della signora tanner dubitava che se si fosse presentato a lei una volta espiata quella pena annosa e soprattutto dopo quello scandalo inaspettatamente strombazzato ai 420 lo avrebbe potuto ricevere la signora tanner nel metesimo tempo non si afflisse né si indignò tanto per la conclusione della faccenda quanto si rimproverò di averlo spinto incontro a quel destino senza alcuna necessità gli scrisse anche una letterina nella quale gli confermava la sua immutata fiducia ed esprimeva la speranza che dall'imeritata durezza del verdetto egli avrebbe tratto l'insegnamento e lo sprone a conservarsi indomito nell'animo e sereno per i giorni migliori ma poi trovò che non c'era motivo di dubitare di mattia e che era meglio vedere come egli superasse la prova sicché prese la lettera appena scritta e senza neppure guardarla la mise in un cassetto della sua scrivania che chiuse a chiave con cura intanto era già autunno avanzato l'uva veniva pigiata nei tini dopo alcune settimane brumose che pronunciavano la fine della stagione ci furono altre giornate calde azzurre e discretamente interaggianti riflesso dall'acqua in linee spezzate l'antico monastero giaceva pacifico sull'ansa del fiume verde e dei vetri delle finestrelle guardava la nascita di un giorno dai delicati toni dorati e di nuovo nel bel tempo autunnale un piccolo drapello guidato da gendarmi armati risalì il viottolo in salita dopo aver varcato la sponda scoscesa tre prigionieri c'era anche l'ex padre mattia lì tanto in tanto sollevava la testa china e guardava ora la distesa assolata della valle ora il silenzioso convento aveva avuto giorni non buoni ma la sua speranza era ancora integra non turbata dai dubbi e fissa sull'immagine della bella signora pallida la cui mano aveva tenuto nella sua e baciata prima dell'amara corsa verso la vergogna e allorché inaspettatamente si ricordò di quel giorno alla vigilia del suo fatidico viaggio quando dalla protezione dall'ombra del convento aveva guardato oltre il fiume per la noia un tenue sorriso comparve sul suo volto dimagrito e gli sembrò che la parziale contentezza di allora non fosse affatto migliore e più augurabile dell'oggi così carico di speranze ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita condividi nei commenti la tua esperienza metti mi piace e iscriviti al canale di doeia per ascoltare altri contenuti simili ci vediamo nel prossimo video